Dov'è ora la vera Anna, del Vè, Sorokin che ha ispirato la serie tv di successo Inventing Anna? La falsa ereditiera russa pare che sia tornata in Germania e che abbia lasciato gli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Post, sarebbe stata estradata ieri, lunedì 14 marzo. Dopo aver truffato hotel, amici e banche è finita in carcere nell'anno 2019. Con una grande abilità e tanta astuzia, era riuscita a ingannare l'elite di New York tra il 2016 e il 2017. Si finse una ricca ereditiera e oggi pare che sia particolarmente furiosa per come si sarebbero evolute le cose. Anna Sorokin si trova in Germania, dopo essere stata imbarcata su un volo per Francoforte. Questa la notizia. Chiaramente è stata rilasciata dal centro di detenzione in cui si trovava, nello stato di New York. Secondo quanto riporta una fonte a lei vicina, pare che la truffatrice di Inventing Anna sia furiosa, in quanto aveva appena lanciato un appello per continuare a vivere negli Stati Uniti. Intanto, la serie TV Netflix che si è ispirata alla sua particolare storia sta appassionando milioni di persone. Attualmente, è la seconda serie più vista in lingua inglese, subito dopo Squid Game. Il suo account Instagram continua a essere gestito da Blake Cummins, il quale ha rivelato, appunto, che la Sorokin non si aspettava di essere estradata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.